bentornati a casa mia questa spesa non era prevista ma dovevo acquistare delle cose su amazon e per arrivare ai 29 euro per essere idonei alla spesa alla spedizione gratuita mi mancavano 2 euro e 79 circa e quindi cosa mettere nel carrello per arrivare alla cifra matite colorate ho pensato un tempo era matite altre cose poi ho detto no voglio provare i caraiola perché ne sento parlare su youtube ovviamente e ne sento parlare abbastanza bene quindi ero interessata proprio a questa tipologia di matite ovviamente ho messo una confezione da 12 perché dovevo spendere solamente altri 3 euro circa in più e perché le voglio provare e se dovessero andare bene non disdegno di prendere anche confezioni più grandi sempre meglio fare prima una prova qui dice matite colorate personalizzabili sono 12 matite qui ci sono degli scarabocchi non ci fate caso perché le ho provate al volo prima e poi come l'hanno consegnato poco fa ora però faremo la prova con voi personalizzabili ecco perché c'è praticamente la solita fascetta per scrivere il nome a me non serve perché non vado a scuola quindi non a meno che non mi confonda con le matite dei gatti scherzo ovviamente qui dietro c'è la tabella colori ci sono i nomi anche sulla matita e ora poi comunque vediamo tutto insieme lunga durata alta qualità mina resistente vediamo scusate colori brillanti allora io sono stata sul terrazzo un po di tosse perché questo è il periodo di falciature con l'erba alta e per me è tragico raffreddore un po di tosse e quindi è un periodo un po tragico per me però va così ok manda le ciance betta forza mandare al sodo ok via troviamo però l'unica cosa che mi è dispiaciuta non c'è un grigio però sono 12 colore nemmeno si può pretendere insomma no ci mettiamo qui a fare una piccola prova poi ho in mente di fare il confronto di tutte le matite mio possesso una per una così vi faccio vedere e vi descrivo un po la qualità la resistenza il colore la pigmentazione devo trovare un pochino di tempo per organizzarmi bene allora iniziamo con questa ecco vedete qui c'è la fascetta per scrivere il nome qui c'è vabbè marchio c mi piacciono perché hanno il fusto io passo da un argomento all'altro non ci fate caso hanno il fusto rotondo che a me piace molto mi piace il fatto che tutta l'interno tutto l'intero fusto sia colorato con lo stesso colore della matita e mi piace che c'è il nome il nome del colore a me questa cosa piace tantissimo eccolo qua blu e iniziamo provando il blu allora la mina è piuttosto morbida è pigmentazione insomma forse questo è il blu chiaro adesso vediamo se ce n'è uno un po più scuro che c'è scritto qui no semplicemente blu insomma vabbè è un azzurro più che un blu comunque la la mina la sento abbastanza poi faremo un confronto con le altre matite vediamo insomma costano pochissimo quindi ovviamente si paga quello si prende quello che si paga e c'è poco da fare qui c'è il celeste che ha il nome sky blu blu cielo c'è anche in francese vedete c'è in inglese e in francese blu ciel ah e la mina è 3.3 è la classica standard che a me piace più per i libri da colorare mi piace il la mina 3.3 celeste più chiaro vi farò venire il mal di testa con le mie riprese a cavolo vediamo adesso proviamo anche a fare una miscelazione miscelamento come si dice beta a miscelarle sì questo è un celeste proprio bello comunque pigmentazione insomma ovviamente non sono le prismacolor però si miscelano se si miscelano cazzarola si miscelano ma guardate che spettacolo no io questo non me l'aspettavo sorpresa positiva il bianco ci hanno messo a far bianco voi ci potevano mettere il grigio no bianco ovviamente su carta bianca non si vede però passandolo sul colore vediamo si lo schiarisce anche il bianco al suo perché è potrebbe fungere da blender tranquillamente quindi li perdoniamo dai che non abbiano messo il grigio questo che è il verde tanto sono 12 me la sbrigo presto eh green verde non sapete che non sono niente male queste matite non sono niente male belle 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 poi certo questa è una piccola prova che sto facendo con voi poi dovrò fare un bel rodaggio insomma per poter essere un po più precisa mappa ma un bel verde si classico verde via andiamo avanti che ci abbiamo qua la batteria scarica brown marrone ma hanno si fondono si miscelano guardate bello anche il marrone certo ecco pigmentazione insomma colorano è abbastanza bene questo è il yellow green verde chiaro verde vabbè qui dice yellow green giallo verde ma insomma è un verde chiaro eh corrisponde praticamente al cinabro guardate che bel che bel colore però eh praticamente corrisponde al cinabro dei giotto stil dei giotto del particolare giotto stil nuovo quelli che ho io questo dovrebbe essere il nero black white dovrebbe essere ma come parli lì si bepare una guatta mamma mia che spettacolo ma si fondono sì ma io non credevo che i graioli erano così cioè sono bellissimi cioè hanno vedete il nero col verde si miscelano si miscelano bene e creano un terzo colore vedete qui purtroppo non si vede bene però ve lo garantisco crea un terzo colore che è un incrocio tra il nero e il verde guardate non mi aspettavo che erano così belle ste graiola o black noir e via poi qui abbiamo il viola violet passiamo sotto ritorniamo sotto l'azzurro no lo metto sotto al verdino qua perché mi piace l'accostamento il classico viola diciamo abbastanza chiaro e più un lilla quindi va bene per me si fonde si miscela si miscela il giallo eccolo mettiamo sotto l'azzurro questo è proprio il classico yellow 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 summer ring il giallo fa un po più fatica è ad attaccare però colora è vabbè colori chiari normalmente sono un po più duretti un po poco pigmentati almeno per quanto riguarda matite insomma di media bassa qualità però guardate tinge 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 che poi questo libro qui il coloring gardens qua color book country garden a una carta un po bastardella è che non acchiappa normalmente bene i colori arancio orange mettiamo sotto al marrone che accostamenti beta che fai però sono belli sono belli si miscelano anche l'arancio insomma a parte che non ha bella sono proprio belle proprio le tonalità sembrano veritiere non so come spiegarvi non quei colori artefatti troppo forti brillanti sembrano più colori naturali ecco ma fosse che fosse che sto diventando professional ma quando mai questa qua è il rosso arancione red orange tutto cavolo sta eccolo qua red orange lo mettiamo lo cos'è lo mettiamo sotto all'arancione di modo che vediamo se miscela si praticamente è un rosso si miscela molto bello è tipo un mattone ora però io non ecco la luce molto forte oggi è bello è bello bello ne manca uno poi abbiamo finito eh il red è il classico rosso 50 sfumatore di betta vabbè ho capito ho capito ho finito i dati devo cancellare che pizza sto cellulare batteria scarica ma non credo era carico prima io poi di cellulari ci capisco meno di zero sì è un bel rosso sembra veramente più un fucsia a vederlo così no vabbè comunque ricalcando poi sopra è il classico rosso che si miscela col verde soprastante guardate io non vorrei dire che a dieci e lote ma ci siamo quasi eh io cioè prima ripeto ho fatto quegli scarabocchietti sul cartone giusto per provare al volo stavo fuori sul terrazzo appena arrivato il pacco quindi ma adesso che li sto provando qui su questa carta che ripeto è molto molto eh strana è un po' non plasticosa ma insomma il colore a volte scivola invece qui acchiappano bene graiola eh impugnatura favolosa ehm poi è una cosa soggettiva quella perché comunque c'è chi preferisce l'esagonale io preferisco il rotondo l'esagonale è più adatto magari per i bambini che sul sul tavolo sul banco a scuola per esempio queste rotonde si potrebbero rovesciarsi e cadere a terra no rotolare pardon io normalmente dipingo si dipingo ha parlato Van Gogh io normalmente scusate coloro qui in camera oppure eh di là in sala sul sul divano quindi non non è un problema appoggio dove sugli appositi sostegni ma io non bevo eh nel senso non è che sono eh un ubriacona che straparlo perché bevo io sono astemia quindi non cioè sono proprio io che sono così ok grazie se siete stati alla visione cliccate su iscriviti e sulla campanella mi vergogno è chiedo questa cosa sembra che chiedo chissà che però tanto è tutto gratis eh cliccate su iscriviti e sulla campanella quale campanella quella che sta scritta vicino che sta vicino ai iscriviti praticamente per restare sempre aggiornati eh non ci fate caso si scherza si ride siamo in compagnia in amicizia e così un bacione da betta un abbraccione e ci vediamo al prossimo video ciao e grazie